Altaleranti i dati covid dei comuni lesuviani. A Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino, sono quattro i nuovi casi di positività certificati. Si è registrata invece una sola guarigione. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati con 92 attualmente positivi, di cui 12 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata invece, nelle ultime 48 ore si sono registrati due nuovi casi di contagio a fronte di 160 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta allo 0,62%. Al contempo si registrano quattro guarigioni. Sono 31 dunque i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 50.329. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 22.901, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 27.428.